Salve e benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft Queen Tech It 2. È notte fonda, io sono appena rientrato dal concerto di Milano dei Red Hot Chili Peppers, ma avevo delle priorità e le priorità sono registrare il video perché è tutto il giorno che penso a Minecraft e quindi prima di andare a dormire era necessario farlo. Nello scorso episodio abbiamo completato una delle farm più incredibili, forse la più incredibile sicuramente di questa serie e oggi andremo a vedere come funziona e che cosa ci produrrà mentre andremo a fare altro. Abbiamo già un po' di produzione perché tra lo scorso video e oggi ho lasciato il gioco un pochino aperto per poter fare un po' di MC e portarci avanti su alcune cose che volevo fare insieme oggi e quindi andremo a vedere intanto subito subito come si va avanti. Ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di lasciare un bel like o un commentino che sono sempre sempre utili a me ovviamente e alla serie per andare avanti. Sono molto contento di come sta andando, però so che ci sono un po' di voi che guardano i video, sbircelo e non si iscrivono. Premete quel bottoncino che non vi costa niente, forza. Ma detto ciò, bentornati, bentornati. Si è buggato il rumore di Rotary Maserator, dovrebbero macerare, però va bene. Qua funziona tutto ragazzi, funziona tutto. Io sono molto contento, è stato tutto lasciato come vi ricordate, ma unica cosa che effettivamente non è come vi ricordavate, il barrel qui, perché sono andato a controllare una mia vecchia serie e effettivamente però era un altro pack. C'erano i barrel che erano fichissimi e purtroppo qui no, nel senso che sì, ci sono, funzionano più o meno nello stesso modo, ma non funzionano con i tubi. E quindi volevo fare uno smistamento un po' diverso, non lo possiamo fare. Ci accontentiamo di quello che abbiamo fatto per il momento che va comunque bene. Allora, scusate, io ho cambiato, ma in realtà volevo proprio venire di qua, perché dobbiamo controllare un po' di cosine. A prima di tutto questo buco lo potremmo anche chiudere, perché tanto, beh, che niente ci cambia. Quindi lasciamolo per il momento così, però mettiamoci una torcina per evitare spawn indesiderati. Allora, vediamo com'è messa qui il nostro condenser. Beh, 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 che vi devo dire, ragazzi, che vi devo dire? Allora, tendenzialmente vedete la situazione come qui, come ci siamo lasciati, questi funzionano ovviamente da Dio, perché ormai sono sempre pieni di tutto. E qui abbiamo, non so quanti stacchi di diamanti, volete contarli voi? Io a questo punto inizio a prendermeli un po', perché adesso facciamo un po' di passi avanti con i craft pesanti, tra virgolette, che dobbiamo fare nella serie generale a casa. Quindi entriamo qui e inizierei facendo una cosa, un claystar più grosso, ragazzi. Allora, noi abbiamo il nostro claystar che è il Drey, lo dobbiamo prendere quattro, quindi uno, due, tre e quattro, perfetto. E andiamo a farci subito un claystar un pochino più capiente. Ce ne manca uno? Manca un claystar che è questo qui che è il mio, perfetto. Ok, quindi claystar numero uno, claystar numero due, claystar numero tre, claystar numero quattro. Andiamo a fare un claystar VR, che insomma, insomma, mica male non è. Anche perché adesso dovremmo poter fare questa cosa qui, correggimi. Oddio, è già pieno, oddio, è già pieno, però tiene anche 3.200.000 MC, che non è male. Allora, bruciamo tutta questa roba, bruciamo tutto, 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 tutto. Abbiamo 11.800.000 MC, ragazzi, non so se prendete conto di quanta roba è, veramente tanta. Facciamo un claystar ancora più grande, giusto per non sbagliare. Ok, abbiamo appena speso una quantità di MC furiosa solo per fare un claystar gigante, però ci serve, quindi lo facciamo, molto volentieri. E abbiamo il claystar sphere, che non è il più grande, perché il più grande è l'omega, se non mi ricordo male, che sono quattro di questi. Cerchiamolo. Claystar omega, esatto, che costa 25 milioni di MC, mi sembrano un po' tanti per il momento, quindi li lasciamo lì. Allora, abbiamo 7.000.000 MC, che sono una fucilata, iniziamo a riprenderci intanto i 3 collector, che abbiamo tolto dalla farm di MC qua sopra, perché se vi ricordate, l'abbiamo utilizzato per fare la farm di Lavasel. Quindi, facciamo così, così e così. E abbiamo ripristinato la nostra farm, e siamo molto contenti di questo, devo dirvi la verità, sono davvero molto contento. Andiamo giù, perfetto. Adesso, questa la possiamo bruciare, non ci serve più, questa stone, la mettiamo di qua. Fammi vedere un secondino qui come siamo messi, svuotiamo un po' questa roba, che la portiamo di qui. Almeno inizio a fare altro scrap, che ci tornerà comodo. Qua sotto lo scrap è messo, lo scrap è messo effettivamente bene, perché non è male, però dovremmo un po' ampliare questa chest. Facciamo un upgrade, iron, aspetta, com'è chest, upgrade, 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 da legno ad iron, da legno ad iron. Ok, quindi un pezzo di legno e poi tutto iron. Non abbiamo più niente, ma adesso ho il crane star, quindi aspetta che adesso facciamo le magie. Adesso facciamo le magie, facciamo davvero le magie. Quindi questo facciamo così, questo lo mettiamo qui, facciamo questa roba qua, perfetto. E questo, no, non qui, ma qui sì, tasto destro, ma almeno abbiamo recuperato un po' di spazio. Questo lo mettiamo a posto, visto che ci manca tantissimo ferro, io farei così. Ci prendiamo un po' di stack di ferro, così lo mettiamo a posto. Allora, benissimo, farei la stessa cosa con la tin, che ce ne manca sempre, perfetto. Col copper, perfetto, benissimo. Intanto abbiamo ancora 4 milioni di MC, quindi capite bene che adesso stiamo giocando una lega completamente diversa rispetto a un po' di più di Faraga, non so se vi rendete conto. Cioè, io non l'ho svuotata la farm, cioè, non so se avete visto, non l'ho svuotata, non l'ho svuotata. E questa è la cosa che mi fa impazzire, che qui ce ne sono ancora, qui ce ne sono ancora. Io, io, è troppo bello, è veramente troppo bello. Perfetto, torniamo a casa, che tra le varie cose voglio sistemare un po' di cosine. Allora, allora, abbiamo un po' di diamond. Intanto un po' di stack di diamond, secondo me, sono da portare via. Poi, questi qui, li mettiamo qua e bruciamo tutto. Ah, ci sono presi anche dei blaze, vabbè, bruciamo anche questi blaze, perché abbiamo 11.961.000 MC e vorrei iniziare a fare un po' di roba che abbiamo lasciato indietro. Ovvero, vorrei fare, prima di tutto, la nostra armatura. Quindi, attenzione, perché qui si va a fare cose difficili. Dark matter, dark matter, matter, ecco qua. Allora, se non ricordo male, l'armatura di dark matter è prepedeutica per fare quella in red. Aspettate un pochino, red, in red. Sì, perché si fa così. Quindi, iniziamo da quella di dark matter, dark matter, perfetto. E poi ci facciamo le cose. Quindi, ci servono 1, 2, 3, 4, 5 pezzi. 13, 13 pezzi, 20 pezzi, 24 pezzi di dark matter. E ci facciamo belli belli la nostra armaturella. Guarda, guarda con quanta facilità. Ora, questa cosa, non lo so se mi abituerò, eh. Sì, ci abitueremo. Però, è troppo bello. Io sono troppo contento di questo. Ok, allora, iniziamo a fare i boots, l'elmo. Poi, avevo qualcosa che mi ero già fatto? No, molto bene. La chest, ok. E i leg. Ok, perfetto. Questa è l'armatura. La facciamo imparare. Ah, non puoi impararla. Va bene, no problem. La indossiamo. Non possiamo indossarla per tutta, perché ha l'appac. Va bene, nessun problema. E a questo punto, cerchiamo di trasformarla in red matter. Ma secondo me non ce lo facciamo, perché abbiamo bisogno di quanti pezzi per farla in red matter. Scusa, è sempre 24? Penso di sì. Red matter, bla bla bla. Eh sì, perché è lo stesso craft, ma nei buchi ci va. E quindi sono sempre 24. Allora, aspetta. Iniziamo a fare l'elmo. Iniziamo a fare l'elmo, che ne richiede 5. Ne richiede 5. Quindi, facciamo così. 1, 2, 3, 4 e 5. E la chest, quanti ne richiede? 8. Ce la faccio a prenderne 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Sì. Allora, questo è molto buono. Questi 2 milioni li tengo. Adesso vi faccio vedere il perché. Allora, facciamo chest. Eh, così. Eh, no. Così. Perfetto. Red matter chest. E poi elmetto. E adesso vi faccio vedere il perché dobbiamo fare... Perché iniziamo da questi due pezzi. Allora, non molti di voi sanno che c'è un upgrade ancora più grande della red matter chest plate o della red matter armor. La dark matter è molto buona. Cioè, rispetto alla diamond ci dà comunque un sacco di armor, ci dà un sacco di roba. Cioè, guardate lì sotto che lo siamo messi e ci manca ancora un pezzo. Quindi, cioè, immaginate. Così siamo pienissimi. Siamo molto forti. Siamo effettivamente molto forti. Ma, a livello di armor, c'è qualcosa di meglio. Ovvero, l'infernal armor. Eccola qui. All'interno dei nostri castoncioni di red matter. Vedete? Tipo questi qua, di pezzi di red matter. Ci sono dei craft che ci permettono di fare cose particolari. Per esempio, la chest ci permette di volare... No, i boots ci permettono di volare. Se non ricordo male. Eccoli qua. Oppure, l'elmo ci permette di vedere al buio. E avere sempre night vision. Che è una bomba. Senza senso. Senza senso. Siamo tutti d'accordo. Quindi, io, se ce lo possiamo permettere, e secondo me ce lo possiamo permettere... E raga, la fare... Oddio, due pezzi di red matter per fare questa soulstone. Morco cane. Allora, due pezzi di red matter, le cose più costose. E questo, tre pezzi di red matter. Uno, due e tre. Perfetto. Poi, abbiamo bisogno di acqua. Quindi, water bucket. Water. Ce ne servono sei. Sono tre, quattro, cinque, sei. Perfetto. E questo è apposto così. Questo ha bisogno di un lapis e di glowstone. Glowstone. Ce ne servono sei. Così è sette. Perfetto. E un lapi. E un lapino. Ok, vediamo se ce la facciamo. Allora, dimmi che non serve... Ah, cazzo, serve il claystar omega, però. No, non dirmi così. Cazzo, serve il claystar... Ah, vediamo se ce lo può fare anche senza claystar omega. Se no, se no, capisco come fare. Ah, intanto iniziamo a fare amoleto. Questo e ce lo riprendiamo. Poi iniziamo a fare la soulstone. Benissimo. E anche questo ce lo prendiamo. Credo che nessuno dei due sia imparabile dalla tavoletta, infatti. Allora, vediamo, vediamo se mi fa fare... Eh, no, perché crede proprio al claystar omega. Perché se faccio così, così, così e così, non me lo fa fare. Ci serve il claystar ancora più grosso. Quello grosso, più grosso... Vabbè, non è un problema. Nel senso che questo lo posso mettere addosso per il momento. Queste me le stipo nelle cose... Ecco qua. Nelle cose che ci servono. Anche questa. Per il momento non possiamo fare altro. A questo punto... A questo punto potremmo... Ok, facciamo così. Questo me lo riprendo. Andiamo a vedere quanto diamond sono stati fatti finora. Pochi. Sicuramente pochi. E vediamo se vale la pena... Eccoci qua. Se vale la pena prendere qualcosina e provarci. Pochi, mica tanto, eh. Perché avevo fatto uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, quasi otto stack. Non mi abituarò mai. Non mi abituarò mai. Raga, voi vi rendete conto che potremmo fare altri nove Rotary Masterator e altri nove... E altri nuovi Thermal Generator e faremo il doppio dei diamanti, vero? Cioè, ci rendiamo conto di questa cosa? Cioè, di là ho due stack di diamond. Non ce la facciamo mai arrivare a 25 milioni per fare il... Oddio, meno perché in realtà... Oddio, 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 oddio. Aspetta un po'. Perché forse sì, invece, sai? Forse sì. Oddio, no, 25 sono veramente tanti. Sono veramente tanti, 25 milioni. No, non ce la facciamo. Non ce la facciamo, però possiamo iniziare a prenderne un altro. Ne so, 6 milioni a cleanstar. Vabbè, dai. Ne so, 6 milioni a cleanstar. Lo iniziamo a lasciare qua. Ce ne servono altri due. Due, uno ce l'abbiamo già. Tanto svuotiamo tutto quello che c'è nei relay. Ormai sono qui in squiglie per noi. Qui in squiglie. Però vale la pena. A proposito di relay. Intanto vado a dormire, perché tra il vento, la pioggia e la notte... Dicevo, a proposito di relay, stavo pensando che potremmo fare una meravigliosa upgrade alla parte dei relay e dei collector. Facendo una stanza apposita sopra di noi, semmai. E facendo quindi un doppio piano invece che un piano singolo. Comunque fargli una stanza in cui iniziamo a fare più di uno. Perché adesso avremmo lo spazio... Cioè, lo spazio e le risorse per farne tanti. Quindi non vedo il perché limitarci a averne solo due. Perché devo averne solo due. Nello stesso tempo posso fare molto di più. Lo faccio, banalmente. Ok. Allora, intanto noi siamo diventati i uber forti. Ciao, tesoro. Mi è qui. Muori. Grazie. Perfetto. Perché con l'omega anche il coso, no? No, armor, stavamo dicendo. Armor. Che anche questa non la possiamo fare perché serve sempre l'omega per tutti i pezzi. Mannaggia, mannaggia. Vabbè, allora facciamo quelli che vanno a fare. Intanto un po' di esplorazione. Ovvero ritornano al query che abbiamo in che direzione è? Quel rucolo mio. Eccolo lì. Andiamo a vedere il query come sta andando. Perché in teoria dovremmo essere arrivati a un buon punto. Io sono molto curioso. Ah, fermi tutti. Perché qua c'è anche ancora qualcosina da ritirare qui. Vero? C'è qualcosina da ritirare qui. Poco. Poco, per l'amore del cielo. Però qualcosina da ritirare lì c'è. Eh, non ce lo facciamo mai scappare. Andiamo al query. Andiamo a vedere come sta staccavando il query. Perché in teoria dovremmo essere arrivati, iniziate a arrivare a buon punto sullo scavaggio. Quindi sono curioso. Allora, il query è qui. Il query è qui. E allora, posso dirvi, secondo me, fare un query grande non ne vale la pena, ragazzi. Cioè, io sono arrivato alla conclusione del fatto. Questi continuano a funzionare. Incredibile. Raga, io lo so che ve lo chiedo spesso. No fuel, ma no fuel è in testa tua. Ve lo chiedo spesso. Però se qualcuno sa come ottimizzare al meglio l'Electrical Engine, io sono interessato. Comunque query grande, secondo me, non ne vale la pena. Ho questa sensazione. Cioè, ci ritroviamo a fare una roba così gigante. E prima di arrivare nei punti interessanti ci mette una vita. Mentre forse il buchettino così ne avremmo fatti già tre, altri due. Non lo so, non lo so, raga. Cioè, comunque deve scavare tantissimo. Ma lì siamo ancora all'inizio. Non sono troppo convinto. Non sono troppo convinto. Mi stavo chiedendo se il nostro World Spike funziona abbastanza da prendere anche di qua. Perché sapete che forse no? Madonna, guarda qui. Cioè, ogni volta che torna, ha una goduria qui. È veramente una goduria. Ma, 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 ma bellissimo. Ah! Fermi tutti. Intanto, scusatemi, rompo tutto. Perché qui qualcuno di voi mi ha dato un ottimo tips. Adesso non ricordo il nome dell'utente, quindi perdonami. Qualcuno di voi mi fa, Andrea, ma perché non ci metti del vetro? È un'ottima domanda. E alle ottime domande servono risposte. E quindi, no, non ce lo metto perché non ci avevo pensato. Quindi adesso, in realtà, facciamo così e ci metto un pavimento di vetro per vedere sotto come va. Adesso l'unica cosa che devo capire è sperare se posso mettere del pressure plate sul vetro. Perché quello non lo so. Non sapendolo mi crea dei problemi. Allora, allora, prendo il vetro che dovremmo avere qua. Sì, eccolo qui, perfetto. E la stone che dovremmo avere qui. Perfetto. Allora, andiamo a vedere un attimino come va la situa. Papapara papapam. Salve, 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 salve. Ah, se io faccio un blocco qui, un blocco qui. Posso metterci questi sopra? No, non posso metterci. Allora, queste non le possiamo usare come vetro perché non posso stare senza plate. Questo è poco, ma sicuro. Quindi l'ingresso deve rimanere così. Però tutto il resto può essere tranquillamente in vetro. Che è anche molto fico. Se posso dire la mia è anche molto fico. Quindi andrei giusto a togliere questi. Ci mettiamo della pietra per renderlo un po' più carino. Così, perfetto. Anche di qua. Allora, aspetta. Ne abbiamo uno qui. Poi qui, perfetto. E poi facciamo vetro, vetro, vetro dappertutto. Esatto. E non è male. Devo dirvi la verità. Devo dirvi la verità, eh. Vi devo dire. Vi devo dire. Vi devo dire. Meme intramontabile. Vi devo dire. Non è per niente male. Non è per niente male. La domanda che mi viene... Ah, posso metterci le torce? Perfetto. La sposa mette le torce. È veramente una bomba. Facciamo così. Facciamo così. Così. E lasciamo una discesa. Abbiamo fatto due. Quindi due. Vediamo come viene. Lasciamo una discesa. Un po' più piccola. Lasciamo una discesa a due. E così. A quattro. Bon. Che sono finiti anche i pezzi. Quindi è perfetto. Scendiamo da qui. Bello tranquillo. Bon. E funziona da grande. Ma... Ma devo dirvi. Mi piace. Mi piace. Intanto ci prendiamo questi diamanti. Che schifo. Tipo questo, questo, questo. Non ci servono. Quindi fallo diventare diamond subito. Oh là. Aspetta. Fai così. Bra. Perfetto. Benissimo. Mi prendo anche questi. Benissimo. Allora. Mentre loro vanno. Andiamo sempre a perseguire il nostro obiettivo di conquista del mondo. Ovvero di fare conquistare omega. Sei milioni. Ah no. Ci manca pochissimo. Scusami. Quanto è che costa? Sei milioni e duecentonovantuno. Duecentonovantuno. Ci manca ottanta k. Ci mancano ottanta k. Ma ce l'ho qui sicuro. Infatti. Infatti me li prendo. Raga il concerto è stato una bomba. Se lo state chiedendo. È stato incredibile. Sono stato felicissimo. È la prima volta il video redotto dal vivo. Eeeh. Ve lo consiglio. Ve lo consiglio. Sicuramente. Non so se metto qualcosa su tiktok. Sicuramente ho messo qualcosa su instagram. Per chi mi segue anche su instagram. Quindi se non lo fate. Seguitemi anche su instagram. Vi rendete conto del fatto che adesso con centomila mc mi sento nudo? E fino a poco tempo fa erano tanti per noi? Cioè centomila dicevamo cazzo centok mc sono tanti. Adesso mi sento nudo. Mi sento di non averli. Cioè ho appena fatto mezzo milione così. Di più un milione. Ah ecco cosa mi ero dimenticato che volevo fare. Fermi tutti. Fermi tutti. Fermi tutti. Allora una cosa che volevo fare importante era mettere un MFSU a riempirsi di energia, di energia, di energia da questi lava, da questi geotermagenerator, da questi termagenerator. Per vedere come va. Allora in realtà perché, allora qual è la problematica? Metterlo lì non ha senso perché tanto quello è sempre pieno. Adesso controlliamo ma dovrebbe essere sempre pieno. E infatti lo è. Quindi metterlo qui secondo me è un po' una stupidaggine. Lo metterei, a questo punto lo metterei un altro MFSU che teniamo di scorta. Lo teniamo bello lì, bello pienotto. Che però possa comunque MFSU, sì. Che però ci possa permettere insomma di fare delle cose simpatiche, carine, belline. Non è neanche un blocco particolarmente difficile da fare. Quindi proviamo. Che dite? Allora abbiamo bisogno di 4, 10 diamanti. Vabbè questi non sono un problema. Li potevo prendere giù, non fanno niente. Diamonds, perfetto. Ne prendiamo 10. Benissimo. Poi facciamo l'Advanced Machine Block. Ce l'avremo, chi lo sa? Bella domanda. Allora, ferro cotto, petta. Questo non so lasciare sulla parte. Questo me lo porto. Allora, ferro cotto. Quello non ce l'abbiamo. Ah no, no, ce l'abbiamo ma ce l'abbiamo poco. Ne faccio cuocere un po' di stack. Mi porto questo, mi porto questo. Abbiamo bronze. Abbiamo il bronze. Poco, pochissimo. Abbiamo delle polvere. Ah non è vero, ce l'abbiamo il bronze. Eccolo qui, è solo nella tasca sbagliata. Questi pure me li porto. Questi pure me li porto. E mi porto anche questi. Aspetta un po'. Questi e questi. Buono. Andiamo. Allora, questi li mettiamo a cuocere. E gli do questa roba qua. Perfetto. Allora, questo è pienissimo. Questo è ancora più pieno. Ma perché c'è tutto pieno di schifo? Mannaggia a me, mannaggia. Allora, facciamo così. Li mettiamo qua. Facciamo un machine block. E fin qua ci siamo. E facciamo due di machine block, scusatemi. Perfetto. Quindi due machine block. Poi, io ho bisogno di, per fare un MFE prima, i quattro cavi li abbiamo. I diamanti con la redstone. Qua, tutti devono essere fatti con la redstone, giusto? Sì. Quindi tutti i diamanti con la redstone. Ma non ci basta la redstone in questo caso. Quindi due stacchettine di redstone. Le prendiamo. Ma perché tre? Ma io clicco due. Perché me ne dai tre? Mannaggia. Ok. Ah, giusto che non sono staccabili. Pa, 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 pa. Non c'è più spazio. Dove cazzo? Ok, perfetto. Va bene. Adesso l'MFE lo posso fare e lo faccio. Ok. Non ne farò due. Non ne farò due. Non ne farò due. Adesso mi servono la plate di carbone e quelle di alloy che forse ho. Eh no, no, non ne ho abbastanza però qualcosina ce l'ho. Allora, col Dust ne abbiamo in quantità. Quindi questo è molto buono. Scusate, mi era stata spenta la luce. Allora, dicevamo, col Dust andiamo a fare questa roba qui. Quanti ce ne servono? Due. Boh, uno ce l'ho già. Quindi facciamo così. Uno di questi e lo comprimiamo. Questi ce ne servono due e ce l'abbiamo già. Quindi direi che siamo a cavallo. Comprimiamo questo, ci siamo. Ci facciamo un Advanced Machine Block. Ok. Poi facciamo... Ah, i lapis ci mancano. Ci mancano i lapis. Lapis, uno stacchettino. Bene. Allora, lapislini che ci fanno fare. Abbiamo detto questi qua così. Dobbiamo fare per i circuiti. Dobbiamo farne sei. Quindi dodici circuiti. Ok. Ah, facciamo così. Questi così. E questi così. Quanti ne escono? Dieci circuiti. Mi servono altri Copper Cable che però forse ho. Fammi vedere se ce li ho. I Copper Cable. I Copper Cable. Ovviamente no. Ovviamente no. Te pareva a te. Ma ho finito pure la gomma? Ma ho finito anche la gomma. Raga, stiamo finendo qualsiasi cosa. Ah, fermi tutti. Ah, fermi tutti. Fermi. Qui, resina. Su. No, no. Resina. Poi facciamo così. Sì, perfetto. Poi facciamo papà. Poi questo mettiamo papà. Epa. Fammi un po' di gomma che qui, sennò il piatto piange, direbbe qualcuno. Fammo così, così. Questi li mettiamo in mezzo. Ne facciamo tutti quelli che ci entrano, tanto ci dovrebbero bastare per questo craft. Ritorniamo a fare il craftettino. Siamo a dieci e dobbiamo farne dodici. A voglia, a voglia, a voglia. Uno, due. Perfetto. E questi li abbiamo fatti. Adesso, tutti questi li facciamo così. Sì, metto questi qua. E dobbiamo, dobbiamo posizionarli all'interno della work table. Ok. E anche qua ci siamo. Abbiamo tutto. Ah no, ce ne dobbiamo fare ancora uno di circuitone. Perché dobbiamo fare il circuitone bello. Il circuitone bello più bello. Ok, aspetta un po'. Questo lo facciamo così. Questo lo metto qua. Mi serve glowstone, redstone e lapislazuli. Un po' di glowstone. Glowstone. Grazie. Gentilissimo. Perfetto. Fiamo così. Fiamo questo così. L'ho fatto. Bla 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 bla. Riclicco qui e abbiamo il nostro MFSU. Oh. Oh. Che piacevole. Che piacevole piacevolezza. Allora, fermi tutti. Questi li mettiamo a posto. Tanto questi vanno per i fatti loro. Anche questi. Questi pure, mi sa. La glowstone non me lo ricordo. E sicuramente il bronze no. Quindi. 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 Facciamo così. Il bronze ce lo metto io. La glowstone ce la metto io. Rimetto i miei tubi e i miei cavi qui. Perfetto. Il grass cable. Secondo me ci basta. Non ce li facciamo bastare. Sono nel dubbio. Dai. Torniamo nella farm. Tutti pronti a farmare. Tutti pronti a farmare. Salve. Che piacevole vista. Che piacevole vista ragazzi. Che piacevole vista. Oh. Allora. Salve. Allora. Facciamo questo piccolo esperimento. Se io. Se io. E ripeto. Se io. Piazzo un MFSU qui. Piazzo un MFSU qui. Ma mi serve un blocco da costruzione. Prenderò questo. Perché è già rotto. Grazie. Quindi facciamo così. E lo piazzo qui. Lo piazzo. Se lo piazzo qui. Che comodo. Qui. Perfetto. No. Fermi tutti. Allora. Aspetta un secondo. Questo lo metto qua. Questo lo metto che guarda su. Benissimo. Poi vado giù. Con grande calma. Ricordatevi. Con grande calma. Prima di spaccare tutto. Molto male. E poi faccio così. Faccio. Pin. 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 Ok. Adesso. Lui si riempie. Non molto velocemente. Devo dirvi la verità. Però in teoria. Questi dovrebbero andare comunque tranquilli. Cosa che fanno. Questi. Dovrebbero funzionare comunque tranquilli. Cosa che mi sembra stiano facendo. Mannaggia. Devo farlo da sotto. Perché. Con quei cavi non funziona. Fammi vedere. Allora. Qua è tutto ok. Qua è tutto ok. Qua è tutto ok. Qua è tutto ok. Qui la farm. In teoria. Va. Qua è pieno. Come una zampogna. Che devono fare. Questi non si fermano mai più. Raga. Questi stanno da dio. Quindi. Teoricamente. Stiamo riempendo. Con. L'energia superflua di questi generator. Un MFSU. Che è lì. Non fa male a nessuno. Probabilmente. Non ha la stessa potenza. Di ricarica. Di generazione di quello. Principale. Ovviamente. Ma a noi non interessa. Cioè. Posso dirvelo. A noi non ce ne frega niente. Allora. Tanto brucio tutta questa roba qui. Siamo arrivati a 5 milioni. Ah. 5 milioni però. Ci mangio. Fermi tutti. 5 milioni è buono. 5 milioni è buono. 5 milioni è buono davvero. 5 milioni è buono davvero. Perché se io dormo. Ti fanno quello che dorme. Ok. Se dormo. E in teoria. Poi vado a fare quello che viene qui. E si prende. I suoi cappini. Parapà. 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 Salve. Ok. Qua dove siamo messi. 162. Questo me lo prendo tutti. Grazie. Mi prendo questo. Ora che io voglio fare il clean star omega. Forse non ci siamo capiti. Clean star omega. Eccolo. Eccolo qui. L'uomo più potente del mondo. Ma anche perché in realtà ha fatto questo. Se io cerco project E. Eccolo. Allora. In project E abbiamo fatto un sacco di roba figa. Raga. Abbiamo fatto veramente un sacco di roba figa. Ci mancano alcune cose. Ci mancano alcune cose. Tipo. Una cosa che vorrei fare assolutamente. È che non vedo. Soprattutto. Forse matto sulla project. No. No. Aspetta un po'. Allora. Questo no. Questo no. Belli questi comunque. No. E come dove? Dove casca? Ma non c'era la transmutation table portatile? Una volta. Scusa. Se la cerco. Transmutation. Fa transmu. Scusa. Transmu. Come cazzo si chiama? Ah. Trans. Transmu. Eccola lì. Transmutation tablet. E perché non me la trovavo? Questa si può fare comunque. Cioè non è nemmeno troppo. E io quella la voglio fare. Aspetta un po'. Fermi tutti. Non adesso. Perché adesso l'obiettivo è fare. E fare un altro clean star. Ma in teoria. Se tanto mi dà tanto. Dovremmo avere almeno uno stack qua sotto. E quindi dovremmo essere in grado di fare l'omega. E qui. Yes. Uno stack. Guardate. Abbiamo fatto 200 milioni di stack. Nel momento in cui sono andato di là. E stavo semplicemente cercando di scrivere nell'anei. Veramente rotta quella farm ragazzi. Veramente rotta. Boh. Due milioni e mezzo. Quindi faccio così. Sbom. Torno qui. Metto il mio clean star qua. Pam. 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 E ragazzi. Abbiamo ufficialmente il clean star più forte di tutto il gioco. Il clean star omega. Big MC butt raise. Come dice l'achievement. Allora torniamo a questo punto a fare il craft. Che volevamo fare inizio gioco. Inizio puntata. Quindi questo metto qua. Prendo. 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 Questo lo metto a posto. Sì. Prima di sparare roba strana. Poi vi faccio vedere. Io metto questo qua. Dimmi che non me lo mangia. Perché se me lo mangia. Piango. Metto questo qui. Questo qui. E mi fa il gem helmet. E me lo mangia. Sono senza clean star. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Questo è il metto del cazzo. Mi è costato 25 milioni di MC. Ma davvero? Ma davvero? Io non so neanche se posso più risalire da qua senza. Aspetta un po'. Ammi qui. Che messi ci devo prendere. Ti prego fammi salire. Ok. Perfetto. Allora torniamo in casa. Andiamoci a prendere un clean star. Mannaggia. Mannaggia. Io non ero certo che sarebbe successo una cosa simile. Dai rei. Va bene. Posso farne un altro? No. Mannaggia. Non ci credo. Non ci credo. Ma davvero? Mi sono mai. Ok. E il bello della diretta è anche questo. Dai. Il bello della diretta è decisamente anche questo. Allora. Fermi tutti. Buttiamoci dentro le cose che non mi servono. Ok. Queste me le prendo tutto quante. Queste le rimetto a posto. Ok. Ok. A questo punto la cesta. Facciamo aspettare perché altri 25 milioni diventa complicato. Però ci lascia questo. Questo dovrebbe essere molto fico. Vi faccio vedere perché. Tanto adesso possiamo volare. Quindi siamo tranquilli. Vi faccio vedere perché. In teoria. Allora premendo Y. Dovremmo lanciare un proiettile d'acqua. Adesso vorrei farlo lontano da casa. Per non fare danni. Però. Ecco. Ecco. Tipo qua. Tipo qua. Tipo qua. Lo facciamo qui. Se io premiamo Y. Ecco. E lancia acqua. È molto carino. Non so se funziona nel nether. Non credo. Però vedete che roba carina. Oddio sono curioso. Ne ho provato scusa nel nether se funziona. Cos'altro fa? Allora col tasto destro affigliamo i tank. I calderoni eccetera eccetera. È come se fosse un secchio d'acqua infinito. Tutte le operazioni sono free. Questo è molto figo. Ma c'è la versione uguale. Ma con. Con la lava. Che secondo me. Potremmo utilizzare per fare qualche farm. Io sono certo. C'erano. I dispenser. Si chiamavano. Forse dispenser. Forse dispenser. Che se non ricordo male. Con un timer. Cliccavano. E facciano robe strane. Ah scusa. Se io metto dell'acqua nel nether adesso. Ah non lo posso fare. Niente. Come non detto. Qui funziona tutto. Sì. Andiamo a vedere giusto per sicurezza. Tutto come se non ci fosse un domani. Ah a proposito. Come se hai messo con il coso. Con l'anchor. Cinque. Ok. Dovrò riportarcelo. Nessun problema. Allora. Me ne ritorno nell'overworld. Salve. Chissà che fio ha fatto quel pigman. Che era venuto nell'overworld. Raga. Io non l'ho più visto. Eh sarà morto probabilmente. Probabile che sia morto. Allora. Torniamo un attimo giù. Vediamo di prenderci un po' di. Un po' di diamond. Anche perché. Eh esatto. Vorrei farmi almeno un clay star di livello superiore a questo. Così. Tanto per dire. Allora. Clay star. Bu bu bu. Bu bu bu. Ma a sto punto facciamo così. Io ho il drey. L'altro è il veer quello dopo. Quindi questo io butto dentro. Mi prendo un veer direttamente. Mi prendo un veer direttamente. Questo me lo dà con tutta la roba che c'è dentro. Sì. Perfetto. Così siamo tranquilli. Buono. Va bene. Questo lo rimettiamo a posto. Che comunque è una roba molto carina. Molto utile. E giusto per ridere. Ma giusto per ridere. Ce l'abbiamo qua. Non so se ce la faccio a farla. Aspettate un po'. Lo fare. Il piccone di Red Matter. Però non so se ce lo faccio. Red Matter. Il piccone di Red Matter. Mi serve quello di Dark Matter prima. Ah. Quello di Dark Matter sicuramente riusciamo a farlo. Quindi tre pezzi di Dark Matter. Uno. Due. Tre. Due Diamond. Ok. Due Diamondini. E li facciamo. No. Quello di Red mi sa che non riusciamo. Però questo è molto figo. E lo faccio solo perché voglio. Eccoci qua. Solo perché voglio lavorare un pochino meglio rispetto al drill che è molto figo. Ma punterei a togliermelo dalle palle appena possibile. Ma domanda. Se io faccio. Se glielo tolgo forzatamente è un casino vero? Sì. Perché poi non le porta di là. E che. Aspetta. Faccio così tipo. Non è troppo problematico. Facciamo così. Tento. Dai. Posso. Dammi. Dammi. Dammi un po' di Diamond ancora. Sì. Sì. Di questo si riempie tranquilli. Perfetto. Beh. Dai. Come va qui? Allora. Lento è lento eh. Perché non ho ancora fatto un milione. Sì. Siamo. Venga ne deve fare dieci eh. Però è molto lento rispetto a quello che abbiamo su. Molto 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 più lento. Non è paragonabile. Però sono tutti MC che insomma ragazzi non fanno schifo. Non si butta quella. Scusate. Scusate. EU ovviamente non è MC. Non si butta quella. Quell'energia. Sarebbe un peccato. Un gran peccato. Ci potremmo fare un altro. che ne sta arma a sto punto col cazzo. Mi faccio il picconone. Perfetto. Alla stragrande. Adesso vi faccio vedere il perché. E chiudiamo l'episodio. Allora. Facciamo così. Il nostro primo utensile in Red Matter. Per di più. Sono molto contento. Is this safe? No. Non lo è. Tu lo dico io. Allora. Andiamo ce ne al query. Scusate. Abilito il teleport. Allora. Anzi. Invece che al query. Andiamo in miniera. Che vi faccio vedere il perché l'ho voluto. Allora. La cosa figa di questo. è che intanto scava velocemente. Ma non quanto il drill. Cioè questo va molto più velocemente. Giusto per renderci conto. Cos'ha però il... Cos'ha però questa piccone che il drill non ha? Se io premo il tasto destro su una vena. Ecco. Questo ha. Ha questo. Raga. Scavare con questo è troppo più comodo. Cioè. Guardate qui. Capite qual è la forza incredibile di questo coso? Vabbè che noi non scaveremo mai. Cioè nella vita. L'ho fatto giusto perché lo voglio. Perché mi piace un sacco. E perché se non lo faccio non sono contento. Però. Qua. La combo destruction. E questo piccone. Catalyst destruction ovviamente. È una bomba. Non ha senso. Perché io vado in giro. Mi prendo già le mie cosine. Lui me le droppa. Oh. Capito. Non c'è più la cosa di. Ah ma. Spacco solo col catalyst destruction. E lascio le cose vuote in giro. Perché. Non lascerò più le cose vuote in giro. Non si può. Non si possono lasciare. Guarda lì. Quanti. Solo quanti materiali abbiamo fatto. Poi. Tutto quello. Ovviamente si è bruciato. Tutto inutile. Perché nello stesso tempo che stiamo a casa. La farm ci fa tanti di quei MC che. Sì. Però non è che ci possiamo basare tutto su quello. Abbiamo fatto una farm che funziona. Ovviamente la usiamo. Eh. Se no. Non l'avrei fatta. Però. La cosa divertente. Deve essere anche. Giocare il gioco. E quindi. Andiamo a provare anche questi utensili. Molto carini. È veramente un piacere comunque. Scavare così. Posso dirlo? Molto. 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 Molto piacevole. Se l'avessi da inizio gioco. Sarai l'uomo più felice del mondo. Mi sono sempre chiesto. Perché non l'hanno fatto. Beh. Sarebbe rotto. Perché non te lo fanno fare. Che sempre che col tasto destro. Sulla stone. Ti toglie tutta la stone. Troppo ridere. Crasherebbe il mondo. Però farebbe troppo ridere. Uh. Ma quelli sono dei diamanti. Vedete. Perché è molto comodo. Ovviamente. Perché. Qua con una sola botta. Vai tu. Fai tutto. E poi ti ritrovi. Semmai appunto. Uh. Ma dietro questa vena. C'erano altre cose utili. È esattamente così. Ok. Ok. E intanto. In uno dei scorsi video. Vi ho chiesto. Se eravate interessati. A vedermi in live. Anche su altri titoli. Ho ricevuto un po' di feedback. Da parte vostra. Quindi penso che. Non in questi giorni. Perché. In realtà. Voi state vedendo questi video. Mentre io non ci sono. Sono. Sono via. Ma. Quando tornerò. Semmai provo a fare. Qualcosina. Probabilmente. Non Minecraft. Perché. Sennò. Andrei troppo avanti. Live. Diventerebbe un peccato. Preferisco registrarlo. Però. Semmai ci facciamo. Nel chilling. Un po' di. Un po' di ricerca di cose insieme. Un po' di. Un po' di giocate insieme. Verrebbe. Carino. Intanto mando a casa un po' di roba eh. Ma raga. Così. È veramente figo. Così. È veramente figo. Veramente. È veramente figo. Do una botta di qua. Perfetto. Benissimo. Tosto a desto. Dai Mondoni. E via. E via. Crepi. L'avarizia. Oh no. Facciamo così. Me ne vado. Voglio questo oro. Ecco ovviamente. Mannaggia. Via. Fammi con la botta. Perfetto. Ok. Scusate. Mi devo togliere qualcosa. Ok. Questo. Se no non posso piazzare questi qui. Ok. Fai su. Benissimo. Tosto a destra. Tutta roba mia. Molto gentili. Ah raga. Ma scusate. Io ho l'elmetto. Sono. Sono stupido. Perché ho fatto questo elmetto? Il gem. Il gem. Helmet. Ci fa vedere. Così. Con quale tasto l'ho fatto? Shift questo? Ok. Eccolo qui. Eh raga. Guardate. Il disattivo. E il motivo. E il disattivo. E il motivo. Ovvio. Non ci serve per casa. Per l'amor di dio. Non ci serve per casa. Però quando andiamo in giro è comodo. Gran gran comodo come cosa. L'inferno dell'armor secondo me è l'armor più. Non so se è la più comoda del gioco. Perché anche quella dell'industria craft è fighissima. Eh. Però. È una delle. È indubbiamente una delle più comode. Ha visto che ci servono materiali vari. Sto continuando solo per questo. Scusatemi. Perché avevamo proprio la cassa che piangeva. E volevo prima di mettermi lì. E per farli tutti con la tavoletta. Mi trovo. Posso farlo in maniera divertente. Per chi non farlo. Qui c'è dell'oro da queste parti. Vero? Salve. 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 Sono pieno di schifo. Sono pienissimo di schifo. Che ho mandato a casa. Con tre click. Paraparapapapa. Troppo divertente. Raga. Io. Io. Questa modda in particolare. Ve lo sapete. Ecco. Qualcuno di voi mi ha chiesto. Giusto per continuare le domande del. Andre. Ma cosa farai orrendi? Cosa farai prossimamente sul canale? Qualcuno di voi mi ha chiesto. Se quando finirò questo pack. Ne farò un altro. Molto volentieri. Mi piacerebbe però sapere da voi. Che forse siete un po' più aggiornati di me. Se ci sono altri pack. Con la. Con la. Project E. Non peraltro ragazzi. Perché. Voglio assolutamente esplorare. Anche altri pack. E altri. Altre mod. Che non conosco. Ma. La Project E. Aiuta tantissimo. In fase di registrazione. Molto. Rende tutto molto rapido. Molto divertente. Secondo me. E poi c'è queste cose. Che sono letteralmente up. Che mi piacciono tantissimo. Le voglio. Banalmente le voglio. Sono un bambino viziato. Che vuole i giochi belli. Diamanti. Diamanti. No. Aspetta. Rompi. Rompi. Diamantini. Infetto. Perfetto. Do una botta. Così. Ok. Me ne vado. Allora. Torno a casa. Che siamo. Pieni come. Delle uova. Sode. E il motore. Ovviamente si è bloccato. Figurati. Mannaggia. Allora. Torniamo a casa. Ciao casa. Allora. Questo lo togliamo. Questo lo togliamo. Questo si è. Sbloccato giusto ora. Quindi ottimo. Questo perfetto. Mi prendo. Facciamo così. Metto un attimo in ordine questa cesta. Mi prendo. La cobblestone. Che metto qui. Così. Già ce la togliamo di mezzo. E. Andrei. A questo punto. A fare questa cosa qua. E ci prendiamo. Tutta questa cobblestone qui. Che abbiamo mandato ora. Mi sembra un po' brutto. Lasciarcela ancora a chest. Facciamo così. 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 Questa la metto qua. Bla 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 bla. E uno stack. Io lo metto direttamente qui. Uno direttamente qua. E lui con la sua calma. Si fa tutto. Oh. Che è successo? Tin dust. Ah. E questo è uo. Mannaggia. Quello. Quello non sta andando giustamente. Quindi. Aspetta. Fammo così. Fammo così. Fammo così. Fammo così. C'è un pic. Che quello non va. E quindi. Giustamente. Mannaggia. 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 Raga. Dobbiamo risolvere. Questi motori che fanno così. Non mi piacciono. Non a casa. Non si può bloccare tutto. Così. Beh. Allora. In realtà. Noi possiamo risolvere tutto. Noi possiamo risolvere tutto. Facendo. Guarda che bello. Guarda che bello. Invece di fare. Eh. Ma bellissimo. Ma salve. Ma che belli i colori. Con la night vision. Meravigliosi. Ok. Scusate. Torno un attimo giù. Cambio qualcosa qui. Ahia. Sì. Ma. Ma la finite di entrare in casa mia. Bro. Bro. Se non la finisci di entrare in casa mia. Figlio di. Mannaggia. Ma sono tre episodi che mi entrano in casa questi. Mannaggia. Ma che è? Che c'ha a casa mia che tanto gli piace? Eh beh. Perché li aggro ovviamente. E quelli salgono sulle plate. E via. Il problema è che se mi entra. Se mi entra dentro un creeper. Io sono nella merda. Facciamo così. Facciamo che tolgo le plate. Sì. 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 Bravo. Andr. Togli le plate. Mangiamo. Guardalo. Guarda. Guarda che questo entra. Guarda che entra. Guarda che entra. Figlio di. Mannaggia. Ah. Ci sono le plate. Non c'erano le plate di ferro? Una volta? Plate. Allora. Ci sono le. Ci sono quelle in ferro. Ok. Non so cosa cambia. Forse quelle in ferro non fanno. Ah. Guarda le. Players only. Quelle in ossidiana. Facciamole subito. Facciamole subito. Obsidian. Obsidian. Dammi. Dammi uno stacchettino di obsidiana. Facciamo subito queste plate. Fortissime. Due. Ce ne servono quattro qui. Quattro di lì. E poi per il resto possiamo anche bruciare questa ossidiana. Bono. Perfetto. Questa la buttiamo a posto. Queste le rompiamo. Uno. Due. Ho rotto tutto giustamente. Perché ti pareva a te non potevo tirare giù anche il pavimento. Funzionano alla stragrande per di più. Bene. Grazie. Uno. Due. Andiamo a fare la stessa cosa qui. Ok. Ok. Ehm. Pa. 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 Ovviamente ha rotto la stone. Ha rotto la stone. Ah. Ma prendiamo la stone. Prendiamo la stone. La stone. La stone. Tururu. 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 Eccoci qua. Oh. Tipo. Ah vabbè. Che adesso però non è notte. Che se mi segui tu muori. Giusto? Eh no. niente, vuole, va bene, non fa nulla ah, dicevamo, scusatemi passo di qua, è obbligatorio prendere i diamond, scusate, scusate qui come va? 2 milioni ok, 2 milioni, ma questo non mi serve questo è sempre pieno, 2 milioni e 1 vabbè, 2 milioni e 1 ci accontentiamo, ci piace, ci piace ci piace, ci piace, ci piace allora, questi, perché questo ancora si sta raffreddando madonna ragazzi quello si sta ancora raffreddando, ma come è possibile è veramente terribile questo, raga, eh, questo è veramente terrificante, dobbiamo trovare una soluzione dobbiamo assolutamente trovare una soluzione oh, ma io sono pieno ah, vabbè, facciamo il cristal più grosso facciamo il cristal più grosso eccoci qua, così ritorniamo a più o meno una semidecenza di green star e poi, raga, dovremmo fare 3 cristal 3, 4? No, 3 green star omega, e lo faremo nei prossimi episodi, mi lascio a farmare un po', così ce l'abbiamo, siamo tranquilli, e 3 cristal omega per fare tendenzialmente tutti i pezzi dell'armatura che vogliamo mi rendo conto che sono tantissimi però, dobbiamo farlo ok, metto queste cosine qui a posto per il momento, il drill me lo metterei cioè, lo lascerei qui, perché per quanto potente, forse, adesso non ci serve più, abbiamo già comunque una roba uber, uber forte come il piccone, sinceramente preferirei fare questo così tolgo il lap pack per il momento così non si scarica, questo lo metto qua, e sono bello corazzato tanto abbiamo un picconcione super forte che direi che ci basta e ci avanza questo sta ripartendo, ancora niente adesso parte, bene grazie, dovrebbe partire più che parte, perché non sta andando, ma perché non vai? aspetta, forse questo si è bloccato, vai un po'? perché non va? questo si è proprio questo si è proprio un pallato, raga, altro che ok, ora funziona, io rimetto le cose almeno, lui si era proprio si era proprio impallato prendeva solamente prendeva solamente input di di energia, però non si muoveva più, quindi si è proprio impallato ah, siamo rossoneri no, non ti fa niente, raga signori, mentre sotto sentite questi rumori di cottura io vi saluto ci vediamo in un prossimo video vi ringrazio per l'episodio di oggi mi raccomando se non l'avete ancora fatto lasciate un bel mi piace un bel commentino con le cose che vorreste vedere come avete visto quando mi dite qualcosa nei commenti cerco sempre di attuarla vi ricordo anche di iscrivervi al canale che è importantissimo per rimanere aggiornati e se volete mi potete seguire anche sui altri social tipo Instagram enjoy e che la rena sia con voi bye bye